ARIA, arredo, recupero, innovazione, architettura. 7, 8, 9 settembre, Lido e Porto di Fano. Per una casa 100% consapevole. ARIA, l'evento dedicato alla tua casa. Scarica il programma su www.aria.casa Buonasera cari amici, benvenuti a questo approfondimento. Come avete capito un po' dalla clip che ci ha preceduto, l'argomento riguarda ARIA che dal 7, 8 e 9 di settembre si terrà a Fano per il terzo anno consecutivo. Quindi se volete potete andare sul sito per consultare il programma completo. Però noi in questo approfondimento abbiamo proprio qui, e li saluto subito, gli ideatori di questo evento. Cora Fattori, buonasera. Buongiorno Lino. Allora, Fabio Signoretti, anche tu. Buongiorno. Sempre abbastanza sul pezzo, come si dice. Questi sono momenti abbastanza concitati per voi. State approntando gli ultimi dettagli particolari, che sono quelli un po' più rognosi, come sempre. Allora, ad ARIA, noi di Fano TV e io personalmente sono particolarmente legato, perché li seguiamo dall'inizio. Questa è la terza edizione. Li abbiamo visti nascere, crescere, svilupparsi, svilupparsi, ampliare la loro proposta all'inizio. Anche sui divani di dopocena abbiamo fatto una puntata per spiegare ARIA che cos'era, perché, insomma. Però devo dire che vi ha portato bene, perché poi il rapporto con Fano TV e con noi continua a essere un bel sodalizio. Allora, quest'anno c'è, Fabio, una novità. Dopo due edizioni al Pincio, che si è, come dire, preimprestato alle vostre dinamiche, quest'anno siete passati a una località più marinaresca. Quindi c'è una novità nella novità. Sì, Lino, l'immagine dietro di te è evocativa. Quest'anno ci spostiamo al Porto e al Lido di Fano. È stata una scelta dovuta soprattutto al fatto di trovare un'altra location, oltre al centro storico, che fosse importante e culturalmente valorizzante per l'evento. E l'abbiamo trovata in questa zona. Quindi tutti gli stand di aria e i palchi saranno nella zona del Faro e nella zona del Lido. Avremo un palco nella zona della piazzetta dove c'è lo yacht vicino alla Capitaneria di Porto. Il secondo palco sarà di fronte ai locali della zona Lido lato sud. Gli stand saranno dislocati per tutto il percorso e avremo anche alcune aree dedicate ai bambini. Gli interventi verranno nel palco centrale, che appunto sarà nella zona dello yacht, che sarà il fulcro della manifestazione. Quindi tutto sommato l'impianto che avevate messo a punto al pincio non verrà stravolto. C'è una ridistribuzione che forse magari rendere anche un po' più animato tutto il movimento, perché magari abbraccia anche persone che magari non vengono lì appositamente per aria, ma giustamente essendo ancora un periodo vacanziero, eccetera, si riesce ad avere un maggior coinvolgimento. Forse è un po' questo anche lo scopo. Cercare di coinvolgere ancora di più la città in un luogo, quello del porto, dove le case sono le case storiche, dove anche lì c'è un vissuto. Però io vedo che quest'anno avete messo a punto anche nel fly e anche nella grafica che avete alle spalle qualche cosa che riguarda tessuti, capi d'abbigliamento, cose valli. C'è un'etichetta che porta con sé un messaggio intrinseco. Il messaggio è molto chiaro. Allora, non apriamo una casa di moda, anzitutto, ma vogliamo trasmettere tramite l'immagine dell'etichetta, che comunque è l'immagine del primo strumento che ogni persona ha utile per diventare consapevole, per capire cosa ha sotto mano. L'etichetta sia nell'abbigliamento, come quella che abbiamo usato noi per decontestualizzare un attimo e fare un gioco su questo messaggio, sia poi l'etichetta anche alimentare e così via, è il primo strumento che ogni persona ha per capire e per essere consapevole. Aria si chiama da sempre Aria la casa consapevole. Questa parola consapevole per noi è molto importante. Quest'anno l'abbiamo voluto sviscerare, spiegando questo messaggio con una frase molto determinata, molto precisa, 100% consapevole. Lo spieghiamo anche nella presentazione che troverete nella guida all'evento, scaricatela dal sito, guardatela, leggetela, mi raccomando. Noi vogliamo far capire che quando le persone hanno la padronanza, per avere la padronanza delle proprie scelte, le persone devono avere chiarezza, devono essere consapevoli, devono conoscere. Aria vuole essere uno strumento, un contenitore, un punto di incontro tra professionisti addetti ai lavori nel settore casa e anche al cittadino. Il cittadino così può capire, può essere consapevole. Se sei consapevole fai una casa migliore, che alla fine ti porta a prendere necessariamente determinate scelte più etiche, perché chi è consapevole fa così. E se hai una casa di un certo tipo, poi automaticamente anche il territorio intero diventa più adatto, più consapevole, più ospitale. Quindi diciamo che vogliamo dare questa mentata di ottimismo con il 100% consapevole. Il 100% consapevole è il messaggio che avete sempre voluto traslare alle persone, ai fanesi, ai non fanesi, a quanti sono venuti da voi. Quindi dalle parole di Cora, io lo dico perché magari qualcuno non ha visto tutto il pregresso, però Fabio, perché avete pensato di fare questo evento? Avete colmato un vuoto, sentivate un'esigenza? Che cosa vi ha animato a imbarcarmi in questa avventura bella di quelle impegnative? Cora ha dato il messaggio, ma penso che il messaggio... Non eravamo consapevoli. Non eravate consapevoli, non avevate idea di dove andavate a mettere, cosa importante. Però penso che sia per arrivare al messaggio, siete partiti da una riflessione, qualcosa vi ha fatto scattare la cittilla. Certo, diciamo che dopo tre anni sicuramente siamo anche noi molto più consapevoli, soprattutto di quello che vuol dire anche organizzare un evento... di questa portata, di questa grandezza, perché comunque parliamo di un evento che inizia la sua programmazione quasi dieci mesi prima, quindi è un lavoro enorme di organizzazione, di contatti, di relazioni. Tornando alla tua domanda, perché siamo partiti a fare questo evento? Perché abbiamo pensato a questo progetto soprattutto? L'idea, come diceva prima Cora, è venuta proprio da quello che è il nostro lavoro. Entrambi lavoriamo, abbiamo lavorato comunque nel campo dell'edilizia e delle costruzioni e di tutto quello che riguarda il mondo della casa. Ci rendiamo conto benissimo che molto spesso le persone che affrontano questa avventura molto importante, la casa è l'investimento più grande che si fa nella vita di una persona normalmente. In Italia è ancora così? In Italia quasi otto persone su dieci possiedono una casa e quindi comunque c'è una cultura dell'avitare sicuramente più elevata rispetto al resto del mondo, diciamo. Però comunque non è mai abbastanza. Le persone che affrontano queste situazioni spesso arrivano alla fine un po' stressati, un po' provati da questa avventura, anche se è sempre bello fare casa, perché poi quando un po' ci si entra ed è tutto posto, è casa dolce casa. È casa dolce casa, assolutamente. Quindi questa è stata la spinta iniziale, quasi un dovere a voler accrescere la cultura, diciamo, generale. Per aiutare le persone a prendere delle decisioni che poi magari a posteriori, no? Perché purtroppo una volta che le hai fatte, le hai scelte, le hai fatte, tra uno di scaldamento a pavimento e uno a muro, insomma. Per evitare la famosa frase, a saperlo prima, tornassi indietro, farei di insieme. Oppure, come dicevano una volta, fai la prima casa, ma in realtà è la seconda e quella. Se non la terza, quella è quella buona, perché nella prima fai gli errori, nella seconda ripari gli errori, nella terza metti insieme tutto. Però non so quanti sono in grado di farsi tre case, oggi come oggi, farne una è una fortuna, ovviamente. È un impegno. Va bene, noi ci permettiamo di scherzare con Coro e Fabio perché c'è un bel rapporto che vogliamo trasmettervi perché è un po' anche questo clima che abbiamo creato così adesso. Chi non ha mai frequentato Aria lo vivrà, lo sentirà, perché questo è un po' anche il bello, no? Non essere troppo seriosi in questo. Cioè, seri, professionali, ma non seriosi. È giusto? Sì, diciamo che proprio il clima che contraddistingue ad Aria rispetto magari a manifestazioni più blasonate, ovviamente anche più importante, diciamo una caratura nazionale, è un po' la situazione easy che si crea all'interno dell'evento. È stato molto apprezzato questo anche delle aziende che spongono perché trovano un clima rilassato, dove riescono a parlare con molta più freschezza con i loro interlocutori, con i loro clienti, con i potenziali, diciamo, clienti. Cora, abbiamo visto di tutto, agirarsi tra gli stand di noi in questi tre anni di Aria, famiglie, bambini, singoli, persone anziane nell'età che magari vogliono approfondire certi temi. Questo penso che per voi sia stato un gran bel risultato, una vera soddisfazione anche in maggio, no? Assolutamente. Aria è una festa, è una festa per tutti. È un evento, è una festa, come hai detto a te, è un evento serio di formazione culturale, ma non è serioso. Quindi è una festa aperta a tutti, dove ci sono iniziative per bambini. Abbiamo un programma veramente ricchissimo che vi invito nuovamente a vedere, perché noi adesso cercheremo di illustrarvi i punti principali del programma, ma sono talmente tanti che ci vorrebbe tutto il giorno. Scusa, una diretta lunghissima. Una diretta lunghissima. Allora io ve lo faccio vedere, questa è la brochure, il fly, guardate quante pagine c'ha, insomma, leggerle tutte è impossibile, però Fabio, facciamo una panoramica, diciamo, qual è l'impianto, il costrutto di questa edizione, quello, il contenuto di questo, senza scendere troppo nei particolari, ma qualcosa vi diremo, però come vi siete orientati, cosa ci avete messo dentro quest'anno? Sì, l'impianto più o meno è quello degli altri anni, soprattutto molto vicino all'impianto dell'anno scorso, anche perché squadra che vince non si cambia, si dice, visto che comunque gli altri anni l'evento è andato bene, abbiamo cercato comunque di migliorare, ma a piccoli passi ovviamente. L'evento aprirà il venerdì e si chiuderà la domenica, quindi 7, 8, 9 settembre. Quest'anno abbiamo spostato la programmazione leggermente più verso l'orario serale, quindi l'evento aprirà alle 11 di mattina, gli stand apriranno alle 11 e tireremo fino alle 23. La sera ci saranno due palchi con due concerti, uno che comincerà alle 21, nel palco Lido, e il secondo concerto comincerà alle 22. Quindi ci saranno anche in questo caso molti eventi che si sovrapponeranno, bisognerà scegliere quelli che interessano di più. Si fa un po' di ping pong, si passa il ponte, si fa un po' di vasche anche. Quali sono gli interventi più importanti? Il venerdì, innanzitutto, possiamo dire che la mattina l'abbiamo dedicata ai corsi professionali, quindi nel palco centrale i corsi di alta formazione, con i crediti formativi, dedicati ai professionisti. Anche qui è possibile iscriversi sul sito di Aria, aria.casa.corsi, e sul programma comunque ci sono tutte le indicazioni. I posti per alcuni corsi sono già terminati, però per altri è ancora possibile inserirsi. Avremo tra gli interventi più importanti, sicuramente partiamo venerdì alle 16 sul palco centrale, parliamo di certificazioni di sostenibilità per gli edifici, verrà ARCA, che è un ente del distritto tecnologico del Trentino, a parlarci di certificazioni, per far capire l'importanza di avere una casa che non sia soltanto bella, ma che sia certificata su tanti aspetti, in particolare quella della sostenibilità ambientale, a cui noi teniamo molto, ma che è importante. Proseguendo il venerdì, un altro intervento molto importante sarà dell'Università Politecnica delle Marche, con il professor Mondaini, che ci parlerà di creatività e sostenibilità. Anche quest'anno ad Aria, e noi ci teniamo moltissimo, saranno presenti tante università, con cui abbiamo ormai stretto una relazione consolidata, ed è sicuramente una bella soddisfazione. Cora, però avete inserito due elementi, secondo me, vincenti quest'anno, che avete sviluppato, bambini e animali. Cioè, avete l'insieme, non è... Esatto, esatto. Però, insomma, che vi riguardano, almeno, abbiamo due. Esatto, abbiamo pensato anche questo. Una famiglia, che i cui genitori vogliono poter girare comodamente, godersi la manifestazione, la festa, seguire anche gli interventi, che ci sono il venerdì, sabato e la domenica, sul palco centrale, con cane, bambino e quant'altro, può fare un po' fatica. Allora, siccome è una festa dedicata a tutta la famiglia, noi abbiamo pensato a una zona dedicata ai bambini, dove ci saranno di continuo delle iniziative, poi sul programma trovate tutto, in modo che i genitori possano avere un aiuto da questo punto di vista. E poi, parte della famiglia sono anche i nostri amici a quattro zampe, quindi avremo anche delle attività a loro dedicate, sempre legate alla consapevolezza, a come gestire consapevolmente l'animale in casa e così via. Quindi, cerchiamo di pensare proprio a tutti e aiutare chi vuole essere consapevole, vuole seguire i nostri corsi, cose che sono state visto molto apprezzate anche gli altri anni, le aiutiamo a seguirle meglio. Ma anche perché, devo dire, io avendoli vissuti in prima persona l'anno scorso, devo dire che non sono, a parte quelli insomma con i crediti formativi che sono estremamente particolari e mirati, però le conferenze, quello che avviene sul palco è fruibile da tutti, anche da qui, veramente la massaia o l'idra, e lo spirito è quello. E lo spirito è il progetto. le possibilità che ho e lo posso fare anche senza annoiarmi. Ecco, girando, e poi tra l'altro ci sono anche delle novità che magari uno non pensa di sapere, ad esempio, l'anno scorso c'era il mattone fatto con la paglia, c'erano queste cose che magari stuzzicano un po' la curiosità delle persone che proprio non le vediamo dietro a caso, però possiamo sapere che ci sono. Sì, poi possiamo anche aiutare il cittadino nel capire tutti gli strumenti che ci sono per detrazioni fiscali e quant'altro. Ecco, questo è importante. Tra l'altro c'è proprio uno degli sponsor dell'evento che è la BCC che è presentissima in tutto quello che è territorio e economia del territorio che parlerà proprio come tra l'altro ha fatto anche lo scorso Fabio di aspetti fiscali e agevolazioni sgravi che sono anche questi una componente importante di chi si approccia alla casa. Sì, verrà Matteo Giuliani direttore area clienti di BCC di Fano che ringraziamo che anche quest'anno ha confermato la parte cinconaria per il terzo anno quindi questo ci fa molto piacere banca del territorio e quindi comunque noi diffondiamo nel nostro evento nel territorio quale miglior diciamo collegamento e si parlerà proprio di anticipazioni di riterazioni fiscali per il periodo che verrà per la ristrutturazione edili e anche diciamo per il sisma bonus e quindi questo sarà un argomento molto importante che affronteremo domenica alle ore 18 sul palco centrale sul palco centrale proseguendo un po' così a a spot sugli interventi diciamo che cose interessanti ne avremo anche il sabato dove alle 16.15 ci saranno i rappresentanti dell'amministrazione del comune che parleranno del futuro del porto di Fano essendo una location e anche avendola vissuta in questi mesi molto ci siamo anche accorti di alcune cose che si potrebbero riqualificare e valorizzare la zona è molto bella e meriterebbe molto di essere riqualificata e tra l'altro all'interno di questo intervento verrà proiettato il teaser del progetto pesca mare su cui sta lavorando Andrea Lodevichetti è molto bello quindi uscirà a dicembre e verrà proiettato all'interno di questo intervento e un'altra cosa molto interessante che abbiamo inserito sempre sabato sul palco centrale alle ore 8 è un intervento di Alessio Carciofi che è un guru del disintossicazione che ci parlerà di digital detox cioè di come staccarsi da tutti gli strumenti digitali che ormai ci circondano e ci costringono da un certo punto di vista a alcune volte non staccare dal lavoro riportarsi il lavoro a casa eccetera quindi questo è un intervento molto sfizioso e sarà proprio dedicato al digital detox per la casa quindi all'interno dell'ambiente domestico perché nella casa c'è una cosa che abbiamo imparato nel tempo a familiarizzare come termine la domotica o sbaglio? esatto che comunque è entrata a gamba tesa insomma nelle nostre abitazioni con un device riusciamo a aprire chiudere far partire insomma qui di te quindi passiamo dall'ufficio alla casa dove facciamo anche lì bisogna mediare un po' c'è anche la domotica buona buona assolutamente e ce ne parlerà proprio domenica alle ore 17 interverrà l'università di Ferrara col professor Mincolelli che ci parlerà della smart house di cosa ci parlerà il professore ci parlerà dell'autonomia degli anziani negli ambienti domestici con l'aiuto delle nuove tecnologie questo è un argomento molto importante anche in un paese come il nostro che tende all'invecchiamento sicuramente dovremmo cercare di aiutare gli anziani nel futuro a stare anche nelle case in maniera confortevole e in sicurezza perché la casa rimane sempre quella noi invece gli anni ci fanno cambiare un po' abitudini quindi vediamo magari le scale con gli agevolatori insomma quindi bisogna che siamo noi che ci adeguiamo alla casa o la casa che ci deve adeguare a noi direi entrambe le cose e secondo me 100% consapevole significa anche questo vedere i pro e contro di una realtà quindi da un lato il digital detox ti fa vedere i contro e come staccarti da una parte eccessiva di questa nuova realtà che ci sta qui ci affrontiamo e dall'altra invece l'università di Ferrara ci spiega come questa nuova realtà può essere invece virtuosa in certi casi e per certe situazioni quindi anche questo significa essere 100% consapevoli vedere le due facce della medaglia capirle e poi prendere le decisioni qui in autonomia certo che voler approcciarsi alla casa non è facile sono tanti i pensieri che devono balenare nella mente pensare al domani al futuro ai figli alle cose insomma sono tanti i pensieri da dover far partire nella mente di chi ha intenzione di metter su casa se vogliamo fare questo assunto insomma non è facile immagino no 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 assolutamente assolutamente e comunque noi con la nostra manifestazione cerchiamo di aiutare il pubblico in questo e ringraziamo comunque tutti coloro che ci mettono nelle condizioni di poter fare questa di poter portare avanti questo messaggio e fare questa manifestazione a cominciare dagli espositori che sono come ogni anno partecipano con entusiasmo e sono sempre numerosi e questo ci fa molto piacere sono anche molto entusiasti ci chiamano per proporci idee nei loro stand e questo è molto è molto bello quindi vedi che c'è un bel fermento anche creativo e poi ringraziamo anche molti dei sostenitori e degli enti tra cui anche Aset che come BCC fin dal primo anno è stato un partner importante Aset ambiente esatto esatto e Aset tra l'altro sarà ospite nel palco centrale venerdì alle ore 18 con un intervento relativo all'accertamento degli impianti termici in cui spiegherà meglio al pubblico la cittadinanza cosa significa l'accertamento negli impianti termici cosa è stato fatto negli ultimi due anni cosa anche questa molto importante perché molti non capiscono non sanno vorrebbero sapere cosa bisogna fare se si ha una caldaia a gas e così via quindi un altro servizio adeguamento energetico anche questa è una tematica che penso sia la più comune tra tutte quando pensiamo a una calda gli espositori ci sono degli espositori che vi hanno abbracciato da subito dalla prima edizione e non vi mollano avete un bello gioccolo duro Fabio sì non svegliamo alcune cose che non ci sono nel programma però sì abbiamo uno gioccolo duro di espositori che dal primo anno sono a braccetto con noi abbiamo anche gli espositori che sono tornati erano presenti il primo anno per motivi vari non sono riusciti ad essere presenti l'anno scorso e ci fa molto piacere riaverli con noi al terzo anno numero nutrito numero nutrito che varia in più generi immagino siano di varie tipologie assolutamente partiamo diciamo dalle costruzioni di case quindi case in legno case in paglia case in tradizionali quindi abbiamo anche diciamo in presedili poi abbiamo comunque tutta la tutta la parte degli impianti impianti termici domotica impianti elettrici e proseguendo poi ci sarà arredamento ci sarà ci sarà illuminazione e tutto quello che è il contorno della casa fino ad arrivare all'outdoor alle piscine e via dicendo tutto dentro fuori sopra sotto assolutamente i numeri i numeri sono più o meno quelli dell'anno scorso abbiamo consolidato il cambio di location ci ha tra virgolette costretto anche a definire bene gli spazi perché comunque la passeggiata del porto del Lido hanno una diciamo una configurazione molto diversa rispetto a quella che trovevamo in centro storico e anche lì è stata una bella sfida riprogettare tutta la manifestazione e collocare gli espositori nelle posizioni migliori si è creato anche un rapporto con chi già è nel posto perché poi lì ci sono attività commerciali locali avete allacciato anche buoni rapporti anche con loro sì sì devo dire che siamo veramente molto contenti perché tutti i locali sia della zona Faro che della zona Lido ci hanno accolto ci hanno comunque accolto molto bene aperto le porte di casa loro perché quella è casa loro e non solo tutti i concerti che verranno fatti in quei tre giorni venerdì sabato e domenica sia nella zona Faro che nella zona Porto sono assolutamente in collaborazione con i locali della zona quindi li ringraziamo perché non è una cosa scontata e siamo veramente contenti certo non bisogna dare nulla per scontato però quando ci crea un movimento soprattutto arriva una manifestazione con dei presupposti così belli e poi che viene da edizioni di sicuro interesse successo immagino che ci sia tutta la volontà di lavorare insieme anche la musica e l'intrattenimento fa parte giusto Fabio come si diceva l'intrattenimento è la ciliegina sulla torta d'aria e l'intrattenimento comunque fa festa e comunque questo è un evento che è anche una festa e non è soltanto intrattenimento musicale abbiamo anche l'intrattenimento un po' più culturale ci saranno delle letture abbiamo parlato di bambini Fano è la città dei bambini ma Fano è anche la città di Vitruvio e a Fano ci sarà cioè ad aria ci sarà la lettura dell'architettura di Vitruvio grazie a ad Eutopia che è una un gruppo di giovani che ci presenteranno già l'anno scorso sono stati sono stati ad aria ci presenteranno Vitruvio leggendo proprio il suo il suo manuale sull'architettura di architettura che è assolutamente coerente con l'iniziativa voi dovreste conoscere a memoria penso il latino il latino in aramaico antico lo conoscete così i passaggi loro ce li hanno proprio sotto le dita però anche il comune di Fano è stato insomma un partner importante per voi avete instaurato da subito un buon rapporto il comune di Fano è parlando da noi ovviamente dal primo anno siamo essendo un evento in strada siamo loro ospiti perché lavoriamo sul suolo pubblico e quindi sicuramente in questi tre anni la collaborazione è stata intensa in effetti poi nei ringraziamenti abbiamo proprio ringraziato il comune e Fano che è una città che assolutamente amiamo che comunque ci ha ospitato in questi tre anni in questi primi tre anni di aria speriamo che ci sia la possibilità di continuare ovviamente questo bel progetto sempre su questo territorio beh possiamo accennare che comunque sia ci saranno come abbiamo detto due concerti due concerti ogni sera il venerdì sera abbiamo i Desaritmia nella zona Lido alle nove e alle venti Marco Pacassoni e Montesi Pacassoni-Montesi duo nel palco centrale Marco Pacassoni poi è musicista di grande carattura un'istituzione a Fano quindi è sempre un piacere averlo ospite e ad ascoltarlo poi il sabato ci saranno alle 21 gli obelisco nero che suoneranno nel palco del Lido e alle 22 Seneca e Guizzi in concerto un concerto acustico con musiche ispirate alle sonorità mediterranee molto molto interessante e invece la domenica avremo sul palco dell'Ido le 21 un DJ set quindi un po' più movimentato diciamo per salutare e chiudere l'evento invece nel palco centrale per salutare e chiudere l'evento avremo alle 22 The Secret Life of Song a cura di Emilio Marinetti e Sala Genghiotti che sono due musicisti jazz veramente molto bravi e in particolare Emilio Marinetti ogni anno ci aiuta e ci fa da consulenza per i concerti e lo ringraziamo perché anche quest'anno ringraziamo anche gli sponsor gli sponsor che sono li ricordiamo i main sponsor BCC Fano Aset ed Air System che giustamente vi supportano insomma metterlo insieme in questo calderone di cose immagino non è stato facile vi vedo provati ma noi vi staremo vicini la carnagione poi fa capire che il mare ore e ore sotto al sole come gli altri arrivate però immagino che ci sia tanta soddisfazione perché è nato non dico dal niente ma insomma siete riusciti a mettere no è nato dal niente è nato dal niente e da subito siete partiti col piede giusto tanto interesse perché sicuramente poi insomma anche dovuto alla vostra giovane età che vi aiuta con l'entusiasmo e con la diciamo di sì e quindi vi aiuta però insomma è provante immagino si arriva sempre un po' per fortuna abbiamo delle bravissime collaboratrici e le voglio ricordare Sara Conti e Diletta Carnaroli che ormai ci seguono da quasi 5-6 mesi nell'organizzazione e sono diciamo i nostri angeli custodi perché comunque se non ci fossero loro l'evento non si potrebbe fare ovviamente poi ringraziamo anche tutto lo staff di Aria che ci segue durante l'evento durante l'allestimento e durante l'evento stesso tutti i ragazzi bravissimi volenterosi veramente capaci certo che insomma accolgono anche indirizzano perché poi ci sono dei punti accoglienza quindi anche questo vogliamo dirlo che indirizzano un po' l'utente o il visitatore a proposito di questo voi troverete durante la manifestazione l'info point e il centro servizi a vostra disposizione con le guide stampate che trovate anche in giro per Fano comunque e le ragazze che vi potranno aiutare a indicare tutto quello di cui avete bisogno ma abbiamo anche una grossa novità abbiamo una nuova collaboratrice virtuale giusto Fabio? Sì quest'anno abbiamo Arianna che è la nostra diciamo collaboratrice la digital collaboratrice che se andate sul nostro sito www.aria.casa slash Arianna e in questi giorni diciamo fino ai primi della settimana prossima indicate quali sono le vostre necessità o che cosa vi piacerebbe vedere durante l'evento poiché il programma è molto ricco vi possiamo aiutare poi Arianna vi aiuterà a trovare quali sono le cose che più vi interessano quindi lascerete le vostre indicazioni e poi vi verrà inviata una guida personalizzata per partecipare all'evento sperimento speriamo che funzioni il prossimo anno che prosegua prosegua Arianna Crisca sia più consapevole avrà qualche figlio magari Arianna non so comunque tutto questo Arianna i desk e gli infopoint sono utili però io vi invito a venire ad aria e perdervi un po' nei meandri di quello che hanno allestito girovagate vedete perché un po' è questo il divertimento chiaro se avete delle necessità loro cercheranno di indirizzarvi mirati però il giochino è un po' questo venire perdere un po' di tempo e godersi questa rilassarsi rilassarsi e magari scambiare qualche parola con loro con tutti quelli che partecipano vivetela in questo modo penso che questo sia un po' anche lo spirito come abbiamo detto bene speriamo di avervi solleticato l'interesse 7, 8, 9 settembre zona Porto e Lido di Fano aria arriva sul mare possiamo dire e quindi Brescia si respira aria buona ho coniato anch'io l'ho pensato a due giorni sta cosa di dire aria buona fate finta che vi piace ricordiamo che Lino sarà presente sul palco di aria per il secondo anno e questo ci fa molto piacere ci divertiremo un sacco con lui io mi diverto anch'io con loro perché sono veramente simpatici e poi insomma i contenuti sono sicuramente giusti e addentellati anche con la nostra vita quotidiana quindi è un piacere oltre che essere lì in maniera professionale bene speriamo che in tutto questo Zibaldone vi sia rimasta la voglia ma speriamo di sì di venire grazie Corrafatori e Fabio Signoretti che hanno illustrato qui in questo approfondimento un po' così a grandi linee che cos'è Aria sono gli ideatori di questo di questo evento che sta caratterizzando da tre anni la fine dell'estate e insomma ci anticipa quello che sarà un po' l'impegno insomma autunnale invernale che riguarda la nostra casa che quindi se dovete fare aggiustamenti cose volete sapere tutto su alcune argomentazioni ad Aria c'è modo di approfondire in maniera pediscequa e insomma competente le vostre curiosità e venite a ritirare le shopper agli infopoint quest'anno abbiamo delle shopper bellissime più marinare diciamo è giusto e sono un gadget gratuito che distribuiamo ogni infopoint benissimo ancora Fattori la distinguerete perché avrà al guinzaglio il suo frido cane sempre e Fabio invece sarà colui che sarà sempre presente insomma quindi e poi ci saluteremo tutti quanti insieme bene questo è quanto grazie grazie Fabio grazie Cora grazie a te Lino un bocca al lupo per tutto e insomma per questo approfondimento è tutto chiudiamo qui e mi raccomando vi aspettiamo vi aspettiamo mi raccomando grazie a te Lino grazie a te Lino grazie a te Lino grazie a te Lino grazie a te Lino